In un paese come la Colombia la Chiesa è chiamata a sostenere il coraggio del primo passo verso la pace definitiva, la riconciliazione e il ripudio della violenza come metodo, il superamento delle disuguaglianze che sono la radice di tante sofferenze, la rinuncia alla strada facile ma senza uscita della corruzione. Nel lungo e denso discorso ai Vescovi della Colombia, nel Palazzo Cardinalizio, Papa Francesco ha ricordato a tutti la vocazione di pastori a cui sono chiamati, non tecnici o politici ma discepoli al servizio delle persone. Un impegno che non può avere contorni astratti ma deve chinarsi sugli uomini e sulle donne fatti di carne, con una storia e non di rado con ferite non ancora pienamente rimarginate. La Chiesa colombiana nella sua poliedrica ricchezza deve sostenere con coraggio l'arduo cammino della pace e della riconciliazione senza soccombere all'inerzia che spinge a ripetere gli stessi errori e deve alzare la voce contro quelle realtà che svendono la speranza. Una società che si lascia sedurre dal miraggio del narcotraffico, ha detto in particolare, trascina se stessa in quella metastasi morale che mercanteggia l'inferno e semina dovunque la corruzione e nello stesso tempo ingrassa i paradisi fiscali. Un pensiero è stato anche rivolto all'Amazzonia, parte essenziale della meravigliosa biodiversità colombiana. L'Amazzonia ha precisato e per tutti noi una prova decisiva per verificare se la nostra società, quasi sempre ridotta al materialismo e al pragmatismo, è in grado di custodire ciò che ha ricevuto gratuitamente, non per saccheggiarlo ma per renderlo fecondo.